Allora, adesso facciamo entrare un'attrice, lei non canta, è venuta giusto perché voleva stare con noi perché lei ci tiene a queste cose, sì perché lei è sempre venuta, Giussi Fortunato Giussi Fortunato, vieni piano piano qua, Giussi, mamma mia, in pratica hai portato il tir hai portato il tir, guarda guarda, Giussi, ciao, Giussi ha portato il tir un bacio, un bacio, grazie, una carica di glucosio, guarda guarda quanto è beccato, una carica di glucosio ma lei anche il marito è sempre così, due bravi artisti, due bravi persone, adesso due bravi persone una perché il suo marito adesso è influenzato, salutiamolo, salutiamo una presta guarigione Ciao Anthony, tutti influenzati, è inutile che dicino ma tu sei sempre malato, in casa tutti quanti malati, guarda che st'influenza non lo lascia a scampo, non lo lascia a scampo ma potete dire tre o quattro volte pure, una retanata, sì sì, vabbè comunque da tanti aurone tutti gli ammalati, noi siamo la medicina di questa sera, guariamo tutti quanti io stasera volevo dare prima di tutto una palma, segno di pace, la donna di casa, grazie grazie a me, segno di pace, che sia un po' di pace e amore in tutto il mondo, ce ne vuole ce ne vuole questa settimana santa, ce ne vuole di pace, Giussi veramente con il cuore c'è troppa cattività in giro, no, brava, c'è troppa, c'è la pace, speriamo un domani migliore, tutti i cuori pieni di pace, ma non per noi che abbiamo già vissuto questi bambini noi cercheremo di lasciare un buon segno facendo queste belle cose appunto veramente ha detto una cosa bellissima perché si vedono veramente nei social network sui social network, nei televisioni, nei telegiornali, insomma sui giornali, tante notizie brutte di questi bambini innocenti che non capiscono e che hanno questa grande paura di questo mondo che comunque li avvolge in maniera negativa, quindi speriamo che possa cambiare la scena in un mondo migliore, gli auguriamo di lasciarci, noi, c'è una bella cosa, qualcosa di bello io in questo momento vorrei salutare i miei due nipoti che soffrono di distrofia muscolare vi diamo un bacione forte, salutiamo con grande affetto, mi stringo davanti a questa causa perché veramente qui si lotta tutti i giorni, quindi per questo io sono molto vicino a queste persone veramente, niente, i nostri lavori in corso, se abbiamo fatto no al razzismo sì, brava il 3 aprile lo faremo vedere, se vuoi venire come ospite a Pollena ah bene ci sarà anche Carmel per Contra fate, che fate, una serata dedicata sì, facciamo una serata dedicata a ci parla, diciamo di omofobia ah ecco di tutto presenteremo il corto e giustamente avverrà anche qualche cantante eh beh, è chiaro, è chiaro, io spero di esserci, io perché sto definendo il nuovo disco e per me il tempo è sempre tiranno, in quanto se non esce il disco, insomma, si sa, la stagione eh, lo so, lo so la stagione estiva per arrivare, il lavoro è lì, quindi devo presentare qualcosa di nuovo spero di farcela, va bene? va benissimo noi ci saremo, veri noi ci saremo, sicuro poi abbiamo finito appena di girare La Forza della Vita tratta da una storia vera tra cui vicino a te c'è un dottore un dottore? sì, perché lui ha fatto la parte del dottore ah, il dottore infatti mi hanno fatto fare una bellissima parte ce l'ha, ce l'ha salutiamo anche Michele Araminese che è stata un'idea sua sì, ciao Vincenzo scritto e sceneggiato da me e la regia di Daniele Poggiolini ciao Daniele augurissimi allora sì, è stata una bella esperienza lui ce l'ha la faccia del dottore è somiglio poco dottor Leuno che stava con la paese mia là e poi prossimamente devo girare no al bullismo no al bullismo abbiamo fatto un corto regia di Michele Gucci tutti i corti sul sociale film interessanti che hanno un significato noi li facciamo tanto per mandare messaggi bene, bene così bene messaggi, sì sicuramente speriamo, speriamo bene speriamo che raccolgono questi messaggi che noi diamo ma sicuramente la gente ha veramente grande e tanta sensibilità perché ci sono tanti problemi ognuno ce li ha però comunque sono tutti corti dalla sensibilità quando si sentono queste cose noi per questo facciamo tutti questi corti fate bene fate bene per mandare messaggi questi messaggi così forti così forti che entrano nel cuore sperando in un futuro migliore abbiamo fatto pure violenza sulle donne e infatti sentivo prima parlare di questa cosa qua sì, di Enzo Sorrentino un altro corto molto bello io vi auguro sempre tanta fortuna per tutto quello che fate bravissima, bravissima allora, Giussi io ringrazio tutti, questa bellissima emittente di Ciao TV vorrei dare un saluto a Rita Cuccaro ciao Rita ciao Rita che vi manda tanti saluti grazie e un'altra cosa, vorrei un altro pensierino per la Mary sì, ma quanti pensierini per la Mary ma se lo merita, Lucia la Mary è veramente grande, allora vedi ma così mi fa negoziare ma come si fa, dai è una sciocchezza ma è un valore è una persona come Mary come si fa vai, vai come si fa mamma mia bello, una bella collana e là applausi è bellissima sono perle bellissima come una perla complimenti è come la Mary, è una perla è una perla come la Mary come la Mary che è una perla bravissima Giussi, complimenti per i sentimenti per la partecipazione per la partecipazione grazie sei emozionata dai un bacio a tuo marito da parte nostra che si possa riprendere al più presto anche da parte mia presta guarigione ok allora ciao Giussi grazie lasciamo la nostra Giussi ciao Mario ciao Giussi, auguri auguroni allora grazie amore ciao Giussi lasciaci il microfono allora hai visto quanta bella i regali è la donna della casa a noi niente regalo a noi niente non mi fai i regali non mi fai i regali non mi fai i regali rimanci quello è geloso davvero quanto mai io sono no adesso voglio dirli in diretta voglio dirli in diretta non ti dico staccaci una perla per dargliela no lo scia voglio dirvi in diretta io sono adesso sono un ragazzo fortunato davvero sono un ragazzo fortunato è perché ho incontrato lei una bravissima persona e si merita tutto il successo e l'amore di questo mondo grazie lo stesso vale per te grazie 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 grazie